Prosegue la preparazione a Campo di Giove della Sulmonese Ofena che domenica prossima 7 agosto sosterrà la prima partita amichevole contro la Lazio Primavera. Un test impegnativo non solo per l'avversario ma anche per la lunghezza del viaggio in quanto la gara si giocherà a Pietralunga in provincia di Perugia, sede del ritiro della Lazio Primavera, distante da Sulmona circa 343 chilometri. L'entusiasmo che sta caratterizzando i primi giorni di lavoro porterà dunque ad affrontare una trasferta così lontana. Soddisfatto il tecnico Tiziano D'Ortenzio della risposta che sta avendo dal gruppo. Un'ottima impressione perché tutti i ragazzi, visto vogliosi, subito di apprendere un pochino le idee che abbiamo che dobbiamo sviluppare nel corso di questi giorni. Ho visto un bel gruppo di ragazzi giovani pronti ad apprendere. Gli anziani, tra virgolette, sono quasi tutti già scavati nel fare questi lavori. Dunque, ottima impressione. I giocatori nelle loro prime dichiarazioni hanno rivelato di aver accettato il progetto della Sulmonesio Fena per aver riconosciuto la serietà della società. Presentiamo questa volta Massimiliano Tuzzi, centrocampista che nelle ultime due stagioni ha giocato con il paterno. Dopo un curriculum, ma anche con squadre di serie D, scende in promozione con tante motivazioni. Sicuramente sono stato colpito dalle cose che mi sono state prospettate. Quando abbiamo dei primi approcci mi è sembrata subito una società molto determinata. La serietà. Ho visto un progetto molto serio, a lungo termine e sono stato convinto soprattutto dalle persone, da questo progetto che mi intriga molto. Vieni da un campionato ambizioso trascorso al paterno. Ti aspetti adesso la stessa ambizione e la stessa finalità anche qui a Sulmona? Sicuramente, venendo da due campionati di vertice in eccellenza, adesso scendendo anche di categoria, l'intenzione è quella di fare un campionato altrettanto di vertice. Sono convinto che ho scelto la società giusta, che ha tutte le carte regola per recitare comunque un ruolo da protagonista. In questo campionato di promozione, che quest'anno vedo che è molto competitivo perché tanti giocatori sono scesi da categorie superiori. Quindi sì, ce la metteremo tutta per fare un campionato di vertice sicuramente. Con un girone B, che è quello che dovrà disputare la Sulmonese ofena, che si presenta molto più difficile rispetto al girone A. Sei d'accordo? Sì, io ho fatto un paio di volte il girone A, tra cui una volta l'ho anche vinto. Di solito il girone A era molto competitivo, adesso questo non lo conosco. Però vedendo i movimenti di mercato delle squadre, come diceva lei, come si sono mosse le squadre, sì, mi sembra molto, molto, molto competitivo. Ci sono squadre tipo Torre Alex, Sportore, che comunque si sono mosse molto, molto bene sul mercato. Noi lavoriamo giorno per giorno senza porci obiettivi e senza partire, secondo me, sconvitti con nessuno. Convinti che il lavoro alla fine pagherà, insomma, è quella, secondo me, la ricetta giusta per fare bene. Sono convinto che lavorando come stiamo già facendo adesso ci potremo togliere delle belle soddisfazioni.